Dal 99 ad oggi sono stati assistiti più di 400 bambini, oggi la Caritasubre ne assiste circa 40 e quindi questi moduli serviranno affinché possano essere utilizzati da questi bimbi che sono il futuro del corso. Abbiamo contribuito al trasporto di questi moduli abitativi che sono presenti qui all'aeroporto di Giacova, aeroporto donato lo scorso dicembre dal governo italiano al Kosovo, aeroporto che è stato funzionante nei primi anni sin dopo la guerra e che ha contribuito a trasportare tanti militari e tanti materiali qui in Kosovo fino ad oggi. Abbiamo un ottimo rapporto con le popolazioni locali e anche ovviamente con l'autorità, credo che il dialogo sia la base della costituzione di un'opportunità per poter far crescere le istituzioni locali e quindi contribuiamo affinché si possa sempre di più poter far crescere queste istituzioni affinché possano un domani portare avanti quelle che sono le loro aspettative.